Noi siamo gli Air Glow e questo primo pezzo è un nostro inedito e si chiama Would You Be My Girl. I saw you baby at the pastal While you were smoking a cigarette I could make you feel really good Just leave with me on the bed I'm gonna show it to you Mmmmmmmm I like you girl Mmmmmmm Would you be my girl? Oh please come here baby with me You know what I mean Oh I hear you scream Oh please I know you want me just look in my eyes I'm not too rich but I can show you the truth Just say yes, you're burning inside One night stand between me and you Mmmmmmmm I like you girl Mmmmmmmm Would you be mine? ALRIGHT! Mmmmm, I like you good Mmmmm, I almost remind you Oh, you know what I mean Oh, I hear you scream Oh, play with me Grazie, grazie a tutti. Il prossimo pezzo è un altro inedito, il titolo è Cannon, che vuol dire traduzione, cannone, ed è un pezzo contro la guerra. Grazie a tutti. For your world to destroy this people and a war. Come on both me spider. Come on both me spider. All the spaces in death and fire, all the children without device. We're soldiers now and we're related. We're soldiers now and we will die. We must give the life for us to know our fate. Come on. The cannonballs means fire. 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 A hurricane Stray from these ruins, my love Stray from these ruins, my love Stray from these ruins, my love Straight from this room is my love Straight from this room is my love Straight from this room is my love Allora, momento delle presentazioni Alla batteria Alessandro Dodi Al basso Pietro Meli Alla chitarra Nicolò Zambrelli Alla voce Fabrizio Polastri L'ultimo pezzo, purtroppo non l'abbiamo scritto noi È un pezzo dei Rage Against the Machine E il pezzo è Killing in the Name Alla voce Fabrizio Polastri Alla voce Fabrizio Polastri Pellico Nunez Alla voce Fabrizio Polastri Alla voce Fabrizio Polastri Alla voce Fabrizio Polastri Autore dei sottotitoli e delle correnti And now you do what they told ya Justify those who died And now you do what they told ya Grazie a tutti 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 Grazie a tutti